Buon nuovissimo video, oggi siamo qui per aprire un bot di casse, come vedete c'è un mio amico che si chiama Andrea, nel gioco per sabretta, e ha un bot di personaggi, anche lui ha tipo 50-60 casse che vi andrò a mostrare in un secondo video. E ora vi farò vedere, cioè a me mancano questi brawler, quindi non potete dire che tipo che imbrogliamo e robe varie, quindi questi qua, Piper, Tara, Eugenio, Spike, Corvo e Leon. Invece a me Spike, Leon, Mortis e Tara. Ecco, e al mio amico questi. Ora procediamo con l'unboxing. Ok, prima cassa che vola via così. Ok. Ok. Per ora niente. Andiamo con le altre. Un botto di biglietti. Ok, ora vai tendra. Ok. Arrivo fino a 30. Va bene. Per me non troveremo niente. Sì. Sì. Allora. Almeno Frank lo posso potenziare, aspetto. Perché prima gli abbiamo dato i punti. Ecco qua. Me lo metto pure. Ok. Ora vado io con le altre. Ok. Niente. Niente. Un ticket. Ora va di nuovo Andrea. Ora faccio vedere da lì. Così si trova qualcosa. Si triggera. Cioè per meglio dire code. E io mi triggero. Un ticket. Tre gem. Quante monete hai il ticket? Dai, spiega. A te hai il ticket. Non è ancora quello. E ho 54 monete. E 67 gem. Ok. Ora facciamo da lì. Un di voi. Che due palle. Niente. Cinta che due palle d'interparonale. Due cassa dopo. Pum. Lagga. Niente. Hai Andrade. Odo io. L'altro. Nulla. Ancora. Nulla. Lagga. Niente. Niente. Oh mio Dio. Cinque gemme. Cinque gemme. Noi. Eccoci. Abbiamo scritto. All'assistenza Supercell. Di farci trovare un brawler. Di solito. Cioè. A me ha funzionato perfetto. E spero che mi funzioni di nuovo. Anche per mortis e panna. Sì è vero. Ok. Vai ora andiamo una terza. Facciamo sempre il cinque cinque. Poi di cassa norme facciamo uno. Due ticket. 12 gemme. Mamma mia. 12 gemme. Prego. Due ticket. Lagga. Che io sono sempre l'ansia che trovi un nuovo brawler e comincio a sclerare. Io ovviamente. Ok. Una testa. Chi trova per primo? Tu. 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 Ok. Io sono l'ospite quindi vado per ultimo. Dai che non trovi nulla. Basta farlo scemo. Niente. Giamme per te. Apri la piano. Ok. Due. Due. Uno è il primo. 10 potenza niente. Niente. Dynamite 27. Fine. Niente. Per ora. Vabbè facciamoci una partita. Ok. Allora io andrò ad utilizzare Brock. E io invece andrò ad usare PENIS. E chi non lo sa. PENIS oppure PINGASH. In inglese significa PENI. Che bene istruito che sono. Oh aspetto sparo io. Se ci sono due car... Ah no ce n'è una. Spare una più tre grande. Io ho portato PENIS per questo. Adesso vieni. Camperiamo. In alto a destra. Aspetta che dobbiamo vedere appunto. Occhio qua. No non ce n'è. Fermo non andare. Ok. Ok. Sotto c'è un ascelli. Porco due. Ma ciao. Ma che? Ma che? Ti proteggo io mamma? Mamma? Sì. Oggi. Entrate nel nostro clan. Si chiama DSS clan. Mi avrebbe spuntato una Piper Solvatica. Vai 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 vai. Oh my gosh. Io non me la colgo ditta. Campera. Lì c'è una gemma. Dove? Un'altra. Aspetta a prenderla. La prendo io che ho lo scudo. Anche perché così la prendo. Vai shish. Sono forte ora. Ecco il Lumpo dentro. Occhio al centro. Ahia. Ma come ha fatto a Tremel? Mi ha collettato con la Piper. Ah. 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 Sua torretta sexy. Mi sta leggermente a copiare del filo. Zumi zumi. Sando. Va. Non ho una mano da qua. Zumba. Vai. Vai. Ahia. Cactus. Dai vabbè. Cacca cactus. Cactus. Parti. Vabbè dai. Più tre. Vabbè. Beh. Direi che questo video si può finire qua. O no? Sì. Sennò un'altra partita. Ultima partita. Ok. E ce la giochiamo. E ricercati. No. Sennò metti. Bo. Footbrawl. Footbrawl. No. Ricercati. Fidati. Ok. Corvo. Oddio. Sarò perché è un leggendario. Guarda. La nostra potenziatore. Sì. Verdi, 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 verdi. Doi si da. Doi si da. Tu credi di assai un ulike corvo. Che pennella. Ma l'arrivato a un ulike corvo. Dui corvi. Dui corvi. Dui corvi. Dui corvi. è molto utile sarà probabilmente il migliore porco scri... porco screpo l'abbiamo chiesto occhio lì c'è Boris chi è Boris? ah guarda è anche che è un X-Surfler ah guarda è anche lì che è un X-Surfler ah guarda è anche lì che è un X-Surfler scappa perchè non sapete se è un X-Surfler o meno youtuber con decisamente molti scritti perchè qualcuno puzza 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 tanto oh mio Dio non muoio perchè sono più H-B perché quando mi ha comprato da Bicca oh mio Dio 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 no abbiamo perso che bello è così che funziona il gioco ok vabbè ciao ciao iscrivetevi al canale iscrivetevi a PewDiePie e anche a Name507 che è il... ciao 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 ciao